Ciao a tutti da Diego di Tecnophone.it quest'oggi mettiamo a confronto due smartphone diversi ma sotto un certo punto di vista uguali abbiamo Nexus 5 prodotto da LG e LG G2 quindi due smartphone della solita casa che hanno in comune il solito hardware per quanto riguarda il processore perché abbiamo uno Snapdragon 800 da 2,3 GHz con 2 GB di RAM per Nexus 5 e solito hardware anche per LG G2 il SOC sul quale è stato sviluppato lo smartphone è il solito però esteticamente e soprattutto anche per quanto riguarda le dimensioni del display e altre soluzioni gli smartphone sono completamente diversi andiamoli a vedere da vicino analizziamo un pochino il Nexus 5 il Nexus 5 lo conosciamo o meglio se avete visto la video recensione che ho pubblicato pochi giorni fa lo conoscete abbiamo il retro in plastica una plastica che non è lucida una plastica simile agli smartphone Nokia Lumia con questo grosso occhiello della fotocamera la scritta Nexus in basso rilievo lo smartphone ha un profilo sottilissimo scusate è disponibile sia bianco che nero ha i tastini in ceramica ed un display da 5 pollici con risoluzione Full HD lo smartphone LG G2 ha i tasti nel retro quindi una novità diciamo per quanto riguarda la posizionamento dei tasti la fotocamera da 13 megapixel con stabilizzatore ottico mi sono dimenticato di dire che LG Nexus 5 ha una fotocamera da 8 megapixel con stabilizzatore ottico quindi 13 megapixel, 8 megapixel abbiamo vedete il profilo dello smartphone leggermente stondato con la cover posteriore in plastica lucida quale delle due migliori? io dico Nexus perché questa trattiene in modo davvero incredibile le ditate entrambi gli smartphone hanno lo speaker vedete nella parte diciamo posteriore dello smartphone però non nel retro quindi finalmente si sono decisi a mettere lo speaker in un modo che si senta vedete qua ci sono due griglie uno è il microfono e l'altro è lo speaker non è stereo anche la posizione del jack è diversa abbiamo il jack da 3,5 mm audio in basso sul G2 mentre sul Nexus 5 è in alto veniamo adesso ai display display che hanno fatto chiacchierare molto perché comunque secondo me sono due display un pochino diversi vi avvicino guardate i colori delle mongolfiere sul G2 i colori sono più veri, più vivi mentre il display del Nexus 5 risulta un pochino più slavato chiaramente stiamo parlando di piccolissimi dettagli se voi non vedete mai il display del G2 per voi questo display del Nexus 5 è assolutamente il migliore però c'è da dire che se li vediamo di fianco i colori sono più belli, più vivi sul display del G2 innanzitutto c'è anche da dire che il display del G2 è un pochino più grande abbiamo 5,2 pollici contro i 5 pollici del Nexus 5 comunque tutti e due sono dei grandissimi display che hanno un grandissimo angolo di visione come vedete si vedono praticamente a tutte le angolazioni i display e anche sotto la luce del sole la visione è davvero davvero ottima veniamo adesso un pochino alle prestazioni innanzitutto la differenza sostanziale è che abbiamo Android 4.4 KitKat su LG Nexus 5 e Android 4.2 su LG G2 una cosa che ha il G2 che invidio praticamente per tutti gli altri telefoni è la possibilità di sbloccare il display facendo il doppio tap questo perché? perché chiaramente essendoci pulsanti nel retro tutte le volte dovremo trafficare troppo questa è davvero una genialata che spero venga introdotta su tutti i dispositivi entrambi i dispositivi hanno chiaramente il led di notifica mi sono dimenticato di dirvelo le principali differenze software sono tantissime perché Android 4.4 KitKat è l'ultima versione però è una versione che non ha tantissime applicazioni installate è la versione stock diciamo pronta all'utilizzo ma non pronta all'utilizzo quanto LG G2 cosa vuol dire? vuol dire che quando noi scartiamo il nostro Nexus 5 abbiamo tutte le suite di applicazioni di Google e basta mentre LG G2 viene venduto con una serie di software che sono tutti questi quindi tantissimi software è una personalizzazione più avanzata del sistema operativo che ci permette di giocare un pochino di più ad esempio abbiamo la possibilità di utilizzarlo come telecomando perché c'è il sensore infrarossi e l'applicazione telecomando la fotocamera è un'interfaccia decisamente migliore rispetto a quella scarna del Nexus 5 diciamo che fa anche le foto decisamente migliori rispetto al Nexus 5 abbiamo diverse modalità di scatto abbiamo la possibilità veramente di fare tantissime cose registrare video, video rallentatore quindi quando siete indecisi nell'acquistare uno smartphone direttamente da Google oppure uno smartphone con una personalizzazione più avanzata queste cose sono da prendere in considerazione LG poi ha introdotto varie gesture che ci permettono di spostare le applicazioni in background ci sono tantissime cose che le possiamo vedere tranquillamente nel menu delle impostazioni perché il menu originale di Android vedete è questo ed è un menu veramente corto invece per quanto riguarda LG vedete ci sono 4 paginette perché se no era un menu che non finiva più quindi diciamo che la differenza poi sostanziale tra i due dispositivi è la grossa personalizzazione a livello software questo poi cosa vuol dire? vuol dire che quando esce un aggiornamento Nexus sono i primi ad averlo gli smartphone come LG ma anche come altri smartphone devono aspettare un pochino più di tempo perché? perché chiaramente le case devono personalizzarlo aggiornarlo e quindi impiegono molto più tempo che magari una versione originale arrivando alle conclusioni qual è le due è il migliore? io non sto qui a dirvi qual è le due è il migliore io vi do un consiglio secondo me Nexus 5 è un buonissimo smartphone è un dispositivo che chiaramente il suo punto di forza sono i 349 euro se però volete uno smartphone magari un pochino più completo allora c'è LG G2 che ha le solite caratteristiche tecniche anzi dimenticavo la cosa fondamentale che poi fa pendere l'ago della bilancia verso il G2 è la batteria perché qui abbiamo una batteria da 2300 mAh LG G2 ha una batteria da 3000 mAh e la differenza vi posso dire che assolutamente si sente non so se avete fatto caso all'inizio quant'era la batteria comunque in questo caso sono ancora al 99% e davvero scende molto lentamente entrambi i dispositivi sono disponibili con 16 e 32 GB di memoria e qui viene fuori la differenza di prezzo perché io vi parlo di prezzi ufficiali 349 euro Nexus 5 da 16 GB 599 euro LG G2 da 16 GB 399 euro Nexus 5 da 32 GB 649 euro LG G2 da 32 GB quindi c'è la differenza chiaramente su internet i prezzi sono molto diversi questo costa sempre 349 scusate però questo lo si trova anche sotto la soglia dei 500 euro quindi decidete un pochino voi quello che volete se volete uno smartphone con tutta l'applicazione di Google che funzioni benissimo fluido senza nessun problema allora Nexus 5 è pronto diciamo per voi per essere personalizzato mentre LG G2 è sì uno smartphone che funziona benissimo perché comunque è uno dei migliori in assoluto che ho provato quest'anno io mi sono davvero innamorato di questo dispositivo l'unica cosa che come vi ho detto non avrà gli aggiornamenti in modo repentino e comunque ha in più una serie di applicazioni che non riuscirete mai a trovare comunque per il Nexus 5 spero di essere stato chiaro vi do un appuntamento ai prossimi video ciao da Diego